Se volete acquistare i crediti FIFA andate in link in descrizione fifacredits.com Bene ragazzi sono Dario e sono tornato con un nuovo video di FIFA E come avete visto dopo l'ultimo pack opening ho trovato parecchi sudamericani Sono riuscito ad accroccare la squadra abbastanza bene con i sudamericani Anche se mi manca qualche cc E infatti è un bel problema questo E comunque cercheremo di trovarli Poi mi manca il terzino destro che sembra introvabile Non esiste il terzino destro sudamericano Quindi ho ottenuto Juanfran per adesso Il grandissimo Juanfran che ci ha compagnato per tutto il mondiale E manca anche un bel portiere Vabbè i sudamericani non è che hanno mai avuto grandi portieri Quindi sono pochi i portieri sudamericani buoni che si possono trovare Comunque questa quella squadra che ho fatto è abbastanza buona Diciamo c'ho tutta l'argentina davanti Poi c'ho Vitallo in mezzo al campo C'ho una difesa stratosferica A parte vabbè Juanfran ma è buono Ma non va bene come intesa con gli altri E comunque la difesa è per... Cioè quei tre fanno paura insieme Ah ecco una cosa che non ho dimenticato Che dobbiamo fare perché avevo promesso nel video precedente Che avremmo scartato adesso il pacchetto Eccolo qui quindi Andiamo a scartarlo E attenzione vediamo chi troviamo Magari un cicci sudamericano Lo butto lì No abbiamo trovato un culo Un culo a mamda Comunque non ci serve diciamo quasi a niente Perché non penso che nessuno si bacia la squadra africana Comunque vabbè andiamo a giocare la partita Un altro tedesco sul nostro cammino Come vedete siamo ai quarti Un altro tedesco un'altra volta Che squadra c'ha? Non ha una squadra grandissima Quindi se giochiamo e stiamo attenti Ce la possiamo fare Però certo se sta ai quarti Comunque vuol dire che è forte Parte subito con la mela Dai che David No che cazzata Ci ha aggraziato va Mamma mia che cazzata che stavo a fare Dai Aguero Corri Aguero Corri Aguero Il tiro Cazzo 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 Corriamo già a vince Cazzo Quante volte ho detto cazzo Vai putta a mezzo sta palla Che c'è David Tu vissi che incoccia No Oh Se trovo tre volte che mi faccio fregare così Mannaggia a me oh Basta a passare sta palla così Fanno il passaggio Palla per Aguero Il tiro Cazzo No porca puttana Basta Basta Dovemo concentrarsi porca puttana Guardalo Vital Guardalo Barriccio Vital Viet Dai 1-0 Mamma mia che azione Aguero per Vital Vital Tenta il faronetto e lo fa Mamma mia Vai così Manda la mela Mandalo Corri la mela Vai la mela che siete messo davanti Ottimo così La mela mezzo Sei passato Tu dio Il tiro Ma che cazzo sta succedendo Bella per Vital Ancora Vital No 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 non si poteva mangiare sti gol No Questo poi pesa alla fine Ma la mela che hai tolta E Fallo questo Scusate No vabbè incredibile Ma che è partito È partito Marzelo Dai Marzelo Marzelo Il tiro di Marzelo No 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 Non ti voglio Agli altri gol No Oh cazzo Non va bene Non va bene Non va bene Non va bene Mamma mia Sculata Sculata Vai che è partito Santi Casorla Il tiro Che cazzo Non vogliamo segnare Vai che è partito Modric Vattene Modric Vediamo più di questa partita Vattene Modric Il tiro di Modric Non vogliamo segnare Non vogliamo segnare Mannaggia la miseria De tutto ho provato Questo mua Via il portiere Ultimo assalto Dai Vedete pure infortunato Lavezzi Fuori gioco Fuori gioco Porca troia Fischia Fischia Te prego Fischia Non facciamo cazzate Che è finita E finisce qui Un 1 a 0 Sofferto Potiamo fare un 5 a 0 Tranquillo Ma finalmente Per fortuna È finita E andiamo in semifinale Uh Avanziamo Avanziamo In semifinale E va bene Dai Anche per oggi È finita Lasciate un like Se vi è piaciuto questo video Condividetelo Mettetelo nei preferiti Tutto quanto Nel link in descrizione Trovate tutto Facebook Instagram Tutto quello che volete E niente Con il grandissimo Col di Vidal Il pallonetto Noi ci salutiamo Ci vediamo alla prossima Che sarà la semifinale Ovviamente Bella Noi ci vediamo alla prossima Noi ci vediamo alla prossima Noi ci vediamo alla prossima Noi ci vediamo alla prossima